Buongiorno a tutti, allora, 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 magliettina del gigione perché ormai siamo già sabato, tra poco anche lei andrà in letargo. Comunque dobbiamo parlare di questo Svezia-Belgio campionato europeo femminile, terzo quarto di finale. Che noia, non che noia perché comunque, poverine, una squadra giocava, l'altra si difendeva, una squadra giocava e l'altra aveva un portiere che parava, una squadra giocava e a furia di giocare, 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 prima o poi il muro crolla. Ma ci sono voluti 91 minuti e 40 secondi perché crollasse il muro del Belgio. Dopo l'ennesimo calcio d'angolo svedese, ennesimo, dopo un gol annullato, una traversa in fuorigioco, gol annullato fuorigioco sempre. Però, ragazzi, io quando sento, eh, ma no, ma bisognerebbe fare che per 5 centimetri, 10 centimetri, poi dopo fanno la regolina, no, che se ci sono 5 centimetri non è fuorigioco. Ma come se sono 6 e fuorigioco? Eh, ma no, ma non è giusto per un centimetrino in più, poi diventano 10, poi diventano 15, abolitelo e facciamo prima. Ma c'è, se sei in fuorigioco anche di mezzo centimetro è fuorigioco, punto. Non dire che stanno lì tutte le volte, quindi. Perché la Svezia sarebbe passata con la Blastegnius, giocatrice che io, cioè, la paragona ai vari Berner e Foden. Io proprio io, Egidio Calloni. Premio Egidio Calloni anche per lei. Comunque, Belgio che ha pensato solo a difendersi, ho detto, stai a vedere che questi fanno la partita come con l'Italia, si difendono, si difendono, sfruttano il fatto che gli altri non segnano. Primo angolino del sciocco sul calcio d'angolo, fanno loro il gol e passano il turno. Invece, stavolta, ha vinto la più forte. Poi sentivo il cronista, grande Belgio, bravo Belgio, ha fatto soffrire la Svezia. Ha fatto soffrire cosa? Si è giocato a una porta. È vero che il possesso palla è quasi equilibrato, è quasi alla pari. Però il Belgio ogni volta che provava ad andare avanti, qualche tiro velleitario così, ma alla fine non hanno mai neanche centrato la porta. Al portiere della Svezia, al massimo doveva andare a prendere dei innocui lanci lunghi e poi rilanciare il pallone. Da qui, da uno dei suoi rilanci, è arrivato anche il gol della Svezia, poi annullato, perché lancio lungo, la giocatrice del Belgio la controlla male. Palla alla Svezia che lancia la Blasphemius, che se ne va dalla tre quarti campo del Belgio verso la porta, si presenta davanti al portiere, segna, però c'è il VAR. E il VAR dice che sei in fuorigioco di pochi centimetri, ma sei in fuorigioco. Alla fine, proprio al 91esimo e 40 secondi, arriva questo calcio d'angolo, ma è tutto da vedere, perché calcio d'angolo, il portiere del Belgio, smanaccione su tutte le teste che c'erano nell'area piccola. La palla arriva alla Bjorn che calcia, un rattiero raso terra, e la Evrar para pure quella. La palla respinta arriva alla Sembrandt, che da due passi, tiro dall'alto verso il basso, e gol dell'1-0. Ma anche lì stava parando pure quella, perché veramente il portiere del Belgio per me la promuovono, il miglior portiere del torneo, perché veramente ha parato di tutto e di più, tra l'altro anche due calci di rigore. Quindi tanta roba, però alla fine anche lei si deve arrendere. E la Svezia vola ad aspettare la vincente di Francia-Olanda. Partitone, questa sera, a patatrac. Infatti dovrò preparare già il videoregistratore, perché poi sabato sera, nella notte, quando torno a casa, c'è da prepararvi sia la partita di grande libidine, spero, Francia-Olanda, sia le qualifiche della Formula 1, perché c'è la Formula 1, se non sbaglio, ci dovrebbe essere la Formula 1. Indy, per cui Svezia-Belgio 1-0, vittoria meritatissima della Svezia, nettamente superiore al Belgio. Il Belgio si è difeso, ragazzi, come fanno tante squadre che sanno di essere inferiori. Io quando sento la gente che si arrabbia, e hanno giocato col catenaccio, e hanno fatto il catenaccio, e hanno pensato solo a difendere. Ragazzi, è essere consapevoli delle proprie forze, delle forze degli avversari, e quindi agire di conseguenza. Se tu sai di essere meno forte di una squadra, è inutile che l'affronti a testa alta, a viso aperto, eccetera. Perché, sì, magari ti togli la soddisfazione di fare uno o due gol, ma poi finisce come un set di tennis. Se il Belgio avesse giocato a viso aperto contro la Svezia, ne prendeva non so quanti, giocando col catenaccio, pur rischiando, è riuscito a portarla fino alla fine, è vero, ha perso. Però ha rischiato di andare ai supplementari, e magari poteva arrivare anche ai calci di rigore. Poi ai calci di rigore, ragazzi miei, la squadra più forte e più debole non conta più nulla. I calci di rigore è come lanciare la moneta. Non sempre vince la squadra che è più forte. Comunque, andiamo a vedere le statistiche che sono impietose. Ragazzi, io credo che una vittoria più meritata non si possa trovare. Poi si può dire coraggioso il Belgio, bravo il Belgio, eroico il Belgio, eccetera. Però, ragazzi miei, alla fine ha meritato la squadra che meritava. E purtroppo, certe partite che si disputano così, spesso e volentieri vince la squadra che invece è stata cinica, ha saputo difendersi e ha sfruttato magari l'unica occasione che ha avuto per castigare la squadra avversaria. La chiamano la dura legge del gol. A volte funziona, a volte no. Anche perché la Svezia di gol ne ha sbagliati parecchi, soprattutto con la Blastenius, che nel primo tempo su un colpo di testa ha respinto la palla e lì a tre metri si è impappinata. Poi dopo il difensore gli ha messo le gambe davanti, si è capovolta da sola anziché tirare. È vero che la palla non era propriamente bella sui piedi, eccetera, eccetera. Però se lì davanti è alla porta, eccetera, la palla che ti rimbalza davanti, sì ce l'hai un attimino spostata dal piede, ma si è proprio capottata da solo. E poi voleva il calcio di rigore. Poi vabbè c'è stato anche quel pallo di mano, ma la giocatrice aveva le braccia così. Poi non era neanche un tiro, era un pallone rimpallato, giusto non darlo. Prende se fossimo stato nel campionato italiano, quello l'avrebbero fischiato di calcio di rigore. Anche perché adesso De Litt se n'è andato, quindi temo che l'anno prossimo tutti i falli di mano saranno rigori. Con lui ogni tanto poteva permettersi di giocare a pallavolo e facevano finta di nulla. Adesso se n'è andato al Bayern Monaco e quindi si spera che quando qualcuno di quella squadra gioca a pallavolo fischino i calci di rigore. Detto questo ragazzi, Svezia-Belgio 1-0. Io vi saluto, vi ringrazio per questa sera. Vi ho lesionato i testi a sufficienza, visto che nella giornata di sabato, di venerdì scusate, di video ne abbiamo fatti fin troppi. E vi ho lesionato un po' i testi. Domani sono già pronti due bei video, uno di news, uno di call news. Non ne faccio troppi, faccio solo due perché poi alla sera parleremo di Francia-Olanda. E parleremo delle qualificazioni per la pole position della Formula 1. Dovrebbe essere il Gran Premio di Francia, se non sbaglio. E quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Mentre invece, per quanto riguarda domenica, farò solo probabilmente quei due video lì, notturni. Poi magari, se riesco, vi metto dentro una news. Perché poi domenica ne riparleremo nella notte di domenica, perché appunto inizio il trabacco. E siccome al pomeriggio di domenica, dalle 2 alle 5, ho Interlive, da scrivere, alle 6 inizio il trabacco. E quando torno mi faccio la mia doccia, poi mi dedico a voi e vi metterò magari, se riesco, la Formula 1, che magari farò lunedì. Devo vedere anche nella giornata di oggi i turni per settimana prossima, che ho avvisato il mio capo, appunto, che sarò impegnato con il ristorante. E quindi, niente. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!